Ora non l'ho mai usato questo stando a favore in moto Dentro! Troppo larga! Stai esterna! Vai dentro! Segui la traiettoria! Esattamente, siamo io e mia sorella E questo video non era preventivato perché stavamo semplicemente facendo un giro Per testare la moto della mamma che aveva appena fatto sistemare E' una moto che abbiamo sempre avuto e è rimasta anni in garage Anna! È abbandonato! Fermati, fermati! È abbandonato! Andiamo! Fermati, fermati, fermati! Andiamo! Dove? Là! Stengo! Andiamo là! Andiamo a vedere la casa abbandonata! Stengo! Sì! E cosa fai? Anna? Sì che spegni! Ma scendi! Anna! Anna cosa fai via? Vattene di qua! Anna! Vattene! Vai via! Ma che figata! Buon dì! È un altro video? Potrebbe essere un video! Sì, potrebbe essere un video! A meno che qualcuno di noi muoia in questa avventura! C'è la tua letta? Sì! Posso andare? Hai bisogno della tua letta? Anna, gira a sinistra! Di qua! Sì, c'è! Là c'è! Magari ci troverai un barbone abbandonato! Anna, vieni qua! C'è la cella a frigo! Dai, che spettacolo! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Ma ti sembra? Dobbiamo entrare qua, Anna! Ma fai che figata! Tic, tic, tic! Ma c'era anche il parco! Anna, dobbiamo entrare lì? No! Eh, sì! Hai fatto la scelaggia! Sì! Ma è schifo! Anna, dobbiamo entrare! Anna, dobbiamo entrare! Un attimo! Anna! 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 Beh! Ah, qua ci cucinavano la metanfetamina! Iniziamo? Dai! Guarda, quella crepa lì! Adesso gli do un calcio! Dai, no, no, no! Un po' con l'appetito dietro! Tiri qua! Dai, vai via! Allora, questo video qua non è stato programmato, quindi è stato... E stavamo provando la moto della mamma e abbiamo trovato questo posto abbandonato, allora mi sembrava giusto documentarlo e basta! No! Eh! Dobbiamo riuscire ad entrare qua! Sì, sì! Anna, c'era qualcuno che ci guardava! Ok, io direi che la corrente non c'è! Bello, questo? Sì! No, Anna! Voglio entrare lì! L'unica parte è che potremmo entrare da lì! Nel mentre ho anche finito la memoria! C'è un rumore! Anna, devi entrare! Aspetta, l'ho fatto fare... l'ho visto fare... la bella gris! Pensi se lo rilanciassi indietro! Possiamo fare il flash? Sì! Si stanno staccando queste cose! No, no, no! Dai, Anna! Cosa, cosa, cosa è secondo te? Adesso è stato qualcosa all'in fondo! Dai, ma basta! Dai, che bello! Ti sei disinfettato le mani? Qua secondo me ci prendevano i cadaveri! Oh, non toccarlo! No! No, Anna, il bar! Un moicchio, grazie! Ma si riesce! Basta! Mi l'ho rinforzato! Beh, ecco, non so se c'è qualcuno lo sa... Ciao, siamo qua in sala! Andiamo su! Ma come? No, 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 no! Ci si riesce a andare da quel tac 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 tac! Vai lì, vai lì, vai lì sopra! No, 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 no! Non lo sa se è stabile! Non lo sa se è stabile! Lo scoprirò! Dai, vieni! No, 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 no! Scricchio! No, no! Allora, sinceramente non posso poverare! Cioè, è piena di stanze! Una botola! Vieni! Ma è stabile? Sì, sì! Ma Anna, devi fare due gradini! Lascia stare l'arma! Ce ne sono altre qua su! Poi, una cosa di alluminio! Con cosa credi di batterli, vampiri? Ti serve il legno! E tu non ci poteva un vampirino e un zombie! Davide, non mi piace! Non mi credo di sposare, dai, vai! Dai, dai! Anna, dai, dai! Dai, che bello! Guarda lì che si vede la fessura del muro! Anni! No! Sì! No! Sì! No! No, 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 no! Davide, no! Aspetta, fammi dare un'ascurisata! No, no, no! Dai, dai! Cosa c'è? Aspetta, ha scritto un messaggio alla mamma! Ha detto che non abbiamo i documenti della moto! Ah! Ti schifo! Dai, è uno scontino! No, è perché no! Anna, è uno scontino! Mi sono rovate i capelli ieri! Oh, terribile! Davide, se lo stro... Dai, dammene uno! Vai! C'è un ufficio! Guarda quanti roba! Ah, ma guarda! Sono tutti... Vai, gnocco! Fiesta! C'è un menù! Dove? È vero? C'è un abbiaccio, spaghetti da carbonara, tortelli... Eh, sono le lire! No! Ma fai davvero il video? Ma sì, dai, quasi quasi! È carino! Dai, però devono resti cadere dalle scale! No! Sono le lire! Bolletta accompagnamento dalle sostanze di zuccherine! Ah! Anna, bolletta dolce! Andiamo anche qua! No, no, questa crolla! Anna, dimmi parla! Gisto, ci staccano al muro! Oh, Anna, sei scema! Cosa c'è? È abbastanza inquietante! Eh, ti spiegherò il perché! Bugo! Anna, sai cosa ci funziona là? Oh, non l'avevo visto! E lì ci faranno le cose sataniche? No, però Davide comunque non è stabile! Hai ragione! Eh, non ci si può fare! No, Davide non si sedia! Come si salita e scendi? Da davanti o da dietro? Scendi a testa in giù! Come si fa? Ho un gamberetto sulla gamba! Anna! Anna! Mi rimane il piede... Da qualche parte! Sarà qualcuno che te lo siano stretto? No, Davide non ci vede una mozza! Allora non scendere! Ma di qua! Limbo! Sì, ma non si scende! Ma sei sce... Ti giuro, Davide che c'è una pratica via! Comunque è davvero un gran peccato che abbia chiuso perché... Era veramente bello! Un'arancio! Basta! Hai fatto più da dietro? Sì! Con un backflip! È lunga ancora un po'! È lunga non... È lunga non provo! Brava! Sì, sembra che ci sia una persona lì sotto! Ora... Toccarla! Ora non è la parte più difficile! Vap! Ciao, siete noi in YouTube! Vediamo che è dal fuori! Dove? No, c'è altro! C'è altro! Qua c'è qua! Ti sei spaventato anche tu! Ma mi hai fatto paura a te! È un bel bistrello! È un bel bistrello! Eh? Aspetta, aspetta! Ce l'ho, ce l'ho! Guardi, guardi così volato dentro mia stanza! Pistrino! Guardi così volato! Pistrello! Vai tu! Ah! Ah, è una farfalla! L'hai trovato? Mi bistrello! Voi lo scicchieri! Tiralo fuori, poverino! Ma lui dorme adesso! Dai, faccio io! Cosa fai te? Ah, vado! Vai! Quando non ci sono macchine... Oh! Anna, vai in piano! Bene, dai! Dopo questa... Spegni! Non faccio i folle! Ma lascia star! Spegni! Hola! Aspetta! Non mi si vede! Oh! Beh, e dopo questa avventura... Oh, che due scatole! Davide! Eh! Ah, niente! Non me sei folle! Eh! E dopo questa avventura... Vedi che metti gli abbaglianti! Grazie! E dopo questa avventura veloce improvvisata... Davide! Dai, basta! E dopo questa avventura improvvisata... Hai dei capelli bruttissimi! Ha ragione! Vi do un vaccino! Ciao! E... Vedi che metti gli abbaglianti! 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 Grazie a tutti